Ah buongiorno eh, voi aspettavate che iniziava il video, va bene, buongiorno a tutti, bentornati sul canale ed eccoci di nuovo su The Marvel Snap. Sì, lo so, lo so, ovviamente facevo un video al giorno su Marvel Snap, ma se voi non commentate e non lasciate un mi piace, io come faccio a vedere, a capire che vi piacciono i miei contenuti? Sempre lo stesso discorso eh? Comunque, oggi vi porto un video, anzi, oggi vi porto un mazzo che è primo nella tier list ed è questo qua. Il classico Ela ma con Living Tribunal, sì, quindi se già vi incazzavate con un mazzo Ela, adesso vi incazzate ancora di più con un mazzo con Living Tribunal. Allora, prendiamo solo questo perché è giusto prenderlo e andiamo subito a provarlo. Vi ripeto, lasciate un bel piace, commentate, seguitemi, iscrivetevi, condividete, fate tutto quello che dovete fare. Anche perché un video arriva a 100 visual e la è questi ultimi 3, 4, 10. Va bene, cominciamo. Oh, ci regala Jean Grey. Andiamo subito a rompergli le balle con Spider-Ham. Forse non è questo il mazzo, no, non è questo il mazzo, vabbè. Prima partita con un altro mazzo, non importa. E gli spacchiamo. New Cage, perfetto. Perfettissimo. Megaville. Io glielo tolgo. Com'è state? Bene? Sono contento. Io starei meglio se mettete mi piace. Oh, barone di sinistro. Barone di sinistro... Eh. Così. Oggi così. Super Jean Grey. Non so perché, ma ho voluto mettere Jean Grey. Così. Dunque. 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 Ok. 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 Va bene. Facciamo così qua. Andiamo subito a vincere qua. Ehm. Poi giochiamo. Qua. Ha snappato. Vabbè. Vabbè. Ha stravinto, no. Vabbè. Ha stravinto, dai. Questa va così, oh. Avengers! Assemble. Ah. Cioè, neanche mi prende in Destroyer. Mi prende infine l'altro. Destro... ma... Vabbè, tanto non era questo il mazzo. Prendetela come prova la prima. Andiamo avanti. Andiamo a cercare il mazzo che devo farvi vedere oggi. Sì, però, andiamo avanti. Mamma mia. Ma perché, perché... Con tutti gli aggiornamenti che fanno... Mamma mia. Che vergogna. Che vergogna. Non ho comprato il pasto ancora. Allora. È questo. Il tree. Questo è il mazzo giusto. Kaiser. Kaiser. Oh. Qui, come ben sapete, c'è Modoc. Allora, l'ho provato ieri. È in quattro partite. Invisible Woman non mi è uscita manco una volta. Vediamo se oggi... Mi esce. No. Mi è uscita una volta. E ho perso. Con Invisible Woman. Allora, vabbè. Ciao, Ela. Abbiamo perso. Proviamo a fare un altro tipo di gioco. Meta. Mettiamo il Limbo. X-Mason. Vabbè. Giochiamo Crystal. Ci fa pescare la carta. Mettiamo Jubilee. Mettiamo il Limbo. Mamma mia, sono sempre quattro dici punti, sono. Adesso esce il Visible Woman. Cacci tu, amortacci. Vola, vola. Vola, vola. Ma dove voli? Proviamo sei punti. Quattordici. Facciamo così, va. Segron. Ah, il bello è che adesso posso giocarlo ovunque, perché non è più giganto. È un porcanto. Basta. Ho vinto. Ho vinto. Non ci credo. Io sono Iron Man. Invisible Woman. Vabbè. Così. Abbiamo vinto. Un bel livello. 24. Il massimo che ho fatto è forse 70, sono arrivato. Pensate un po'. Andiamo a fare un'altra. Pieni di entusiasmo. Lasciamo mi piace, lasciamo mi piace. Adesso che vinciamo anche questa. Palazzo Bianco. Ah. Dr. Doom. Visible Woman alla prima mano. Wow. Gli do anche un più tre a... A Invisible Woman. Ciao palè. Ultimo livello cos'è? Isola dei mostri. Togliamo gli giamai. Dio prendo il più tre. Grande. Ora, come potete vedere, non abbiamo né... Modok. Né Ela. Quindi è un rischio altissimo giocare a Aeroland. Io al momento gioco Crystal. Che se mi esce Modok... Crystal mi ha dato Ela. Dammi Modok. Ah. Ah. Come sto bene. Ah, come sto bene. Ah, come ne sto bene. Mamma mia. Abbiamo già snappato. Abbiamo già snappato. Ma quanto sei figlio di put... Vabbè, io ti metto lo stesso sei punti qua. Come ne freca me. Qui abbiamo un 13. Nel mazzo chi c'è? Ancora Giganto. C'è ancora Giganto. Ma, scusa un attimo. Ah, lui ha preso visione. No, non c'è più Giganto. Dunque. 8 e 6 6 e 6, 12 20 Non può giocare con quella spossa. Va a 11. Io non credo che possa avere qualcosa più grosso di 20. Solo che se io gioco lui... Si, stravinco lì, ma... Senti, io ci provo, ma è tu qua. Intanto, eh, la non funziona. Si. Ho vinto. Bravo. Bravo. Dovrei aver vinto. Dovrei. Ho vinto. Bravo. Genio. Guarda che cazzo è al liceo. Guarda, 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 guarda. Bravo. Invisible Woman. No, veramente, sapete, ha la vinta. Jubilee che ha pescato al Living Tribunal. Non ci pensavo più al Living Tribunal. Eh già. È bravo. È bravo, Modoc. Ancora una? Dai, ancora una. Lascia un mi piace, commenta. Allora. Abbiamo mezza mano buona. Se entrano altri, altre tre, quattro, cinque carte, è buona mano. Non so voi, ma io ho un cellulare, eh, il Redmi Note 9. Eh, il Redmi Snap mi dà problemi sul cellulare. Oh. Ce la facciamo? Eh, questo è building. Ah, ma, no, ma dammela le carte alte. Però abbiamo... Eh, abbiamo... Invisible Woman. Dammela. Invisible Woman. Allora, visto che questa è quella che rompe di più le balle, eh. Mi serve Invisible Woman. Invisible Woman. Paparapapapapapa. Invisible Woman. Ecco. Vabbè, meno male. Mi ha vissuto i Jubilee. Ora Invisible Woman. Eh, l'unico è fare Iron Man o Slout, Tribunale di Venta. Quella madre, quella... Grandissima... Eh, l'antico cosa. Esce anche in finauta. Esce anche in finauta. Allora, se io faccio Iron Man, lui me lo manda a meno... A meno 3.000, quello lì. A meno 6. Andiamo se non si inventa qualcos'altro, sto fenomeno. Snap! Ti snappo, sì. Kelus! Se hai le... Gioca adesso. Questa è persa, eh. Perché se ha Old Goblin è persa. Io ve lo dico. Eccolo lì. Su! Ma sei un piccio. Ma cosa me lo giochi lì? Eccolo lì. Cretino. Imbecille. Rispettate i vostri avversari. Ignorante! Mentecatto! Il rispetto prima di tutto. Dai. Dai che hai vinto. Mamma mia, quanto tempo. Quante mosse hai da fare? I Goblin li hai usati. Behold, my...